Ciao, sono Leo. Oggi voglio parlarvi di un prodotto naturale per combattere parassiti, batteri, funghi, afidi e alcuni animaletti che attaccano le nostre piantine all'interno del nostro giardino o nell'orto. Questo prodotto magico è l'olio di Neem. Prima di iniziare il video ti chiederei per supportarmi di iscriverti al canale e se il video ti sarà utile di lasciare un like. Vediamo ora nel dettaglio quest'olio dalle mille proprietà. L'olio di Neem si ricava dalla spremitura a freddo dei semi di Azadirachta indica, un albero sempreverde di origine sudtropicale, precisamente della regione dell'India. Il suo nome deriva da Nimari, una dea hindu. Da tutte le parti di questo albero, come le foglie, la corteccia, le radici, i frutti e i semi, si ricavano molti prodotti utilizzati nella medicina orvedica come farmaco naturale. L'olio di Neem lo si riconosce per il suo colore scuro che va dal marrone al verde, ma soprattutto per il suo caratteristico odore intenso che ricorda un mix di arachidi e aglio messi insieme. E non tutti lo gradiscono. È utilizzato in agricoltura ma anche per uso umano e, come dicevo all'inizio, è davvero un prodotto dalle mille proprietà su cui spiccano principalmente proprietà emollienti, idratanti, purificanti, antiossidanti, antinfiammatorie, antifungine, antibatteriche, repellenti e antiparassitarie. Le prime quattro proprietà elencate derivano dal contenuto di acidi grassi e vitamina E, che lo rendono un prodotto adatto per pelle e capelli e quindi utile nelle preparazioni cosmetiche, soprattutto per quelle antietà. Invece, per quanto riguarda le ultime cinque proprietà, sono tutte dovute ad alcuni composti molto attivi, chiamati triterpenoidi, tra i quali la principale è l'azadiractina, responsabile dell'effetto antiparassitario dell'olio. Poi abbiamo la meliacina, che gli dona il gusto amaro e, per quanto riguarda il suo odore pungente, è dato dalla nimindina. Ma vediamo adesso, per quello che interessa a noi, l'utilizzo in ambito fitoterapico. L'olio di nim, come abbiamo detto, ha molteplici effetti benefici sulle piante, allontana tantissimi parassiti e insetti e viene impiegato come prodotto naturale al posto di tanti prodotti di origine sintetica. È assolutamente innocuo per le api e altri insetti utili all'agricoltura e, per questo, lo rende un prodotto ecosostenibile. Lo si può distribuire per irrigazione in modo tale che la pianta lo assorba tramite le radici oppure lo si può spruzzare direttamente sulle foglie. Vediamo adesso come utilizzare l'olio di nim. Per difendere i nostri giardini, orto e frutteto da insetti nocivi, soprattutto nelle coltivazioni di agricoltura biologica, l'olio di nim risulta alquanto prezioso. È facilmente reperibile in commercio si diluisce in acqua e spruzzandolo sulle piante è possibile difendersi da vari tipi di insetti, come afidi, altica, dorifora della patata, tripidi e lepidotteri. Vediamo adesso all'atto pratico come preparare l'antiparassitario. In commercio esistono diversi modi per poter irrorare le nostre piante, come le pompe a spalla, quelle a pressione, quelle elettriche o a batteria portatile. Io utilizzerò un piccolo irroratore da circa 2 litri. Il corretto dosaggio dipende dall'uso che se ne vuole fare, quale insetto si vuole colpire, se si tratta a scopo preventivo oppure per risolvere un'infestazione in corso. Comunque la ditta produttrice di questo prodotto indica 5 ml di olio per litro di soluzione. La diluizione dell'olio puro non è facilissima, per cui conviene aiutarsi con sapone molle potassico. Io andrò a utilizzare sapone liquido di Marsiglia, che oltre a rendere il neem idrosolubile, favorisce l'adesione della soluzione nebulizzata alle piante e quindi ne migliora l'effetto. Vado a utilizzare l'antiparassitario su una rosa nel mio giardino, attaccata da afidi, che come potete vedere si sono mangiucchiate tutte le foglioline. Per sapere il risultato di questo prodotto su questa rosa, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti il video. Inoltre ho utilizzato il prodotto anche su una pianta grassa, un sempre vivo. Vediamo cos'è successo dopo 12 ore dal trattamento. Spettacolare, con un solo trattamento gli afidi sono tutti andati via. Bene, il video termina qui, se ti è stato utile lascia un like e per supportarmi iscriviti al canale. Inoltre fammi sapere se hai mai utilizzato l'olio di neem per le tue piantine. E con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!